ricordati di cliccare su mi piace iscriviti e attiva la campanella delia ha deciso di abbandonare il grande fratello vip come riporta bici tutto è successo dopo la puntata quando la compagna di alex belli ha annunciato a manila il suo addio voglio andare via da qui perché la mia vita è fuori io qui volevo capire soltanto alcune cose queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto ho compreso di amarmi e che devo essere più forte ci sono riuscita il mio compito era questo però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale voi siete da quattro mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima stare qui è stato un regalo ma mi basta così non ce la faccio a stare qui devo andare ha continuato la duran rivolgendosi alla nazzaro io voglio che sia tu o davide la finalista ringrazio tutti di cuore per me è stata un'emozione fortissima l'annuncio di delia ha spiazzato manila che ha cercato in tutti i modi di convincerla a rimanere nella casa devi restare qui ti hanno voluta qui dentro sei stata la preferita contro solei direi che è un segnale chiaro e devi rimanere voi pensate che delia sia una delle favorite secondo voi deve restare fatecelo sapere nei commenti ricordatevi di lasciare un pollice in su per noi è importante grazie per restare aggiornato iscriviti al canale e attiva la campanella grazie a tutti grazie a tutti